Sindaco, ultimo giorno del mese di luglio e c'è tanta gente qui a Tortoreto. E il mese di agosto? Il mese di luglio è stato eccezionale. Il mese di agosto, dalle previsioni, come contatti con gli albergatori, con i villaggi, è sold out. Siamo al completo, è una stagione meravigliosa sotto il punto di vista turistico. Sempre con un po' di apprezzione per questo virus che sta ripartendo, soprattutto in mezzo ai giovani. Anche noi qui abbiamo 27 positive e sono tutti ragazzi. Gli chalet forse di sera esagerano, soprattutto all'ora dell'aperitivo, questo lo si può riscontrare, lo si può vedere. Non potete fare nulla? Sì, abbiamo parlato con loro, stiamo anche con i controlli, di cercare di tenere un distanziamento corretto. Però purtroppo i giovani sono tantissimi e di difficile soluzione. Per il momento diciamo che va abbastanza bene in fronte alle cittadine a noi vicine. Nonostante questo siete riusciti anche a mettere su una serie di manifestazioni, di spettacoli che stanno andando bene e stanno riscuotendo grande successo. Sì, benissimo. Ieri sera abbiamo avuto la serata di Cirilli. È stata una serata eccezionale. Tutto pieno, bellissima, uno spettacolo che ha fatto divertire tutti gli intervenuti. Abbiamo avuto persone che sono arrivati da Pescara a vedere perché è l'unica tappa che ha fatto in Abruzzo quest'anno Cirilli. Le altre manifestazioni sono andate bene. La sera è la bandiera blu, le notti del blues. Stasera ci sarà una selezione per Miss Italia. Olivieri avremo la prossima settimana al Paese. Sta andando tutto bene perché abbiamo, con l'assessore al turismo, approntato l'arena Vivi Tortoreto che in tutti gli spettacoli che facciamo in completa sicurezza.